Gel di carboner Gel di xantana Misuriamo il pH Il pH è 3 Tamponiamo con alcune gocce di soda caustica Dopo aver tamponato il gel diventa molto bene Misuriamo di nuovo il pH Il pH è 6 Adesso possiamo unire due gel Il pH è 5 Adesso abbiamo finito. Nella prossima fase inseriremo gli oli e gli attivi.